È pronta a chiedere una perizia psichiatrica alla difesa della sessantenne, figlia di Carla Bazzani, l'anziana trovata senza vita all'interno di un appartamento di via Montanara nel quartiere di Saione. L'avvocato Barbara Mugnai, che assiste la donna, indagata per abbandono di incapace e truffa ai danni dello Stato, vuole chiedere l'accertamento per verificare le condizioni della sessantenne, che però attualmente è di nuovo irrintracciabile. Il cadavere dell'anziana era stato ritrovato lo scorso 31 agosto in avanzato stato di decomposizione, coperto con un lenzuolo. La morte, secondo i risultati dell'autopsia, sarebbe avvenuta dai 4 ai 6 mesi prima, un tempo nel quale, secondo gli uomini della mobile, la figlia avrebbe continuato a prelevare l'indennità della madre. Accanto all'anziana era stato ritrovato il gatto senza vita. Gli accertamenti veterinari sulla carcassa hanno stabilito che la morte risale 4 mesi prima del ritrovamento, sarebbe deceduto per gli stenti. L'allarme era scattato dopo la segnalazione alla polizia del proprietario dell'appartamento. La figlia, per giorni irrintracciabile, era stata trovata dagli uomini della mobile in un hotel di Rimini. A distanza di un mese dal ritrovamento, è ancora attesa la sepoltura. La salma si trova in obitorio all'ospedale San Donato, in attesa che si sblocchi la situazione. Il comune comunque è già pronta ad intervenire, ma dietro uno specifico mandato. Infine la procura ha disposto il dissequestro dell'appartamento dove vivevano madre e figlia.